Antonio Vivaldi Venezia, nel 600 e nel 700, è una delle capitali del barocco. Qui apre il primo teatro pubblico, qui nasce il concerto solistico e qui nasce opera Antonio Vivaldi. È il 4 marzo 1678. La laguna è scossa da un improvviso terremoto e in questo giorno travagliato viene alla luce Antonio, un bambino fin da subito fragile e cagionevole. Studia musica con il padre e nel 1703 diventa sacerdote. La sua salute rimane delicata e pertanto viene esonerato dall'esercizio sacerdotale. Tuttavia riceve vari incarichi presso l'ospedale della Pietà, un orfanotrofio per ragazze in cui viene impartita loro un'educazione musicale. Nel frattempo Antonio compone con frenesia e la sua fama si amplia a livello continentale. Viaggia molto e dal 1720 tiene Roma come base per i suoi spostamenti. Purtroppo le mode cambiano e nel giro di qualche anno la musica di Vivaldi non incontra più i gusti dell'esigente pubblico. Il compositore muore nel 1741 a Vienna in condizioni di grande povertà e cade nell'oblio fino alla sua riscoperta, circa 200 anni dopo. Il nome di Vivaldi è legato soprattutto alle stagioni, quattro concerti per violino e orchestra composti nel 1725. Chi non ha mai sentito nemmeno un estratto? Sono famosissimi. Però Vivaldi ha composto tanti altri concerti, sia grossi che solistici. In tutto se ne contano più di 450. La metà di essi sono per violino, strumento di cui vengono amplificate le potenzialità tecniche ed espressive in modo da lasciare il pubblico a bocca aperta. Tra le altre composizioni dello stesso autore si ricordano la produzione operistica e il repertorio sacro, con il Gloria in re maggiore e uno splendido Magnificat. L'iconografia ci ha tramandato un'immagine di Vivaldi piuttosto cristallizzata. Lo vediamo sempre con la parrucca bianca. In realtà l'artista era molto noto per la chioma rossastra e infatti era soprannominato il prete rosso dai suoi contemporanei.